Ragazzi miei belli, buon pomeriggio a tutti. Sono tornata e mi ha preso una febbre allucinante, quindi mi scuso per la voce, ma ora sono un po' meglio, ma sono stati due giorni infernali, per questo non ho fatto video. Che dirvi? Sono un pochettino scocciata, perché praticamente questa mattina Meditaremi è stato sottoposto a esami strumentali presso l'Umanitas di Rozzano e ha evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Diciamo che le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, la prossima settimana. Inzaghi spera quantomeno di poterlo recuperare nella gara del 17 agosto contro il Genoa fuori casa. Si parla di uno stop forzato di 10-15 giorni, quindi dovrebbe essere recuperato, ma comunque potrà fare uno scampolo di partita. Si sa che comunque inizieranno sempre Lautaro e Thuram come titolari inamovibili, però magari mi aspettavo che ne so un mezzotempo di sto ragazzo, no? Invece proprio preciso, proprio. Eh, vabbè, così è. Io mi auguro soltanto e spero soltanto che sia un normale affaticamento muscolare di preparazione e che questo ragazzo non si è infortunato ogni due per tre. Cioè, io questa è una cosa che mi auguro. Ovviamente sto parlando così pur parler, ma non penso che sia una cosa. Quindi non facciamo polemiche, non cominciamo subito. Ah, perché questo ha 32 anni, non lo dovevamo prendere, bla 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 bla. Rilassatevi tutti un attimo, perché le cose, come si dice, il tuono non si vede mai prima del lampo, non si sente mai prima del lampo. Quindi questa è la situazione, ragazzi, vi ho informati della situazione. Purtroppo è questa qui. Nessun dramma, perché abbiamo Lautaro e Thuram, voglio dire, di che stiamo parlando. E quindi andiamo avanti. Vedremo. Nei prossimi giorni vedremo come saranno valutate le sue condizioni. Non sono una giornalista, sono un'appassionata. E si vede pure. Ah, voglio precisare che ho un filtro del trucco, perché sennò veramente non mi posso presentare in condizioni pietose. Quindi se si vedono tipo questi buchetti che si fanno nel naso, non ci fate caso. L'importante è non cambiare i connotati totalmente quando si usano i filtri. Un po' di trucco ci sta a tutti. E mi raccomando, condividete il video. Ciao.